Scarica l'app di Juventus News 24, informazione sportiva 100% bianconera Il gruppo ha lavorato bene come tutte le settimane, su questo assolutamente non mi posso lamentare Domani bisogna cercare di tornare alla vittoria perché le ultime due partite abbiamo fatto un punto Per quanto riguarda quanto mi vedo sulla panchina di Juventus Innanzitutto vediamo di finire bene questa stagione nel migliore dei modi Poi ho ancora un anno di contratto Noi dipendiamo sempre dai risultati e dal lavoro Sono molto soddisfatto di questo traguardo soprattutto perché domani raggiungo Marcello Lippi Che ha fatto la storia del caccio italiano, della Juventus Oltre che a cui sono legato in modo affettivo perché è una persona straordinaria Per quanto riguarda Vlaovic non ha niente di particolare Questo affaticamento sull'adduttore Settimana prossima dovrebbe essere a disposizione col Verona Per quanto riguarda i tre attaccanti Ne avremo quattro perché porteremo Cerri della Next Gen Chiesa sta bene così come Ildiz e lo stesso Milic Domani mattina valuterò e deciderò tra Ildiz e Chiesa chi giocherà Per quanto riguarda l'Inter che era la favorita non è che bisognava aspettare la partita di ieri con la Roma Noi abbiamo fatto 53 punti Come ho detto prima tornare alla vittoria domani è molto importante L'Inter sta facendo delle cose straordinarie Nel 2024 credo che abbia giocato 7 partite Ma sono bene dal punto di vista mentale Perde uno scontro diretto ci sta A Milano purtroppo abbiamo perso Diciamo contro una squadra che in questo momento sta facendo cose straordinarie Questo non vuol dire che una partita Ti fa buttare via tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi Anzi è stata una partita dove abbiamo imparato molto Su Alessandro domani potrebbero giocare Alessandro è un giocatore importante Quest'anno ho avuto qualche intopo Poi diciamo Ho scelto Danilo, Gatti e Breme come diciamo Come chiamiamoli titolari Però Rugani, Alessandro Ci sono giocatori importanti Alessandro è un giocatore che credo che quest'anno sia all'ottavo o nonno anno Che alla Juventus ha vinto Scudetti Ha giocato finale di Champions E secondo me è un giocatore che può dare ancora tanto al calcio Parola crisi Non è crisi È una metafora Nel senso che abbiamo fatto due partite a un punto E quindi è un dato di fatto E su quello bisogna lavorare Perché dopo alla fine contano quelle cose lì E quindi domani bisogna affrontare la partita con grande rispetto L'Udinese sapendo che l'Udinese è una squadra che Ha meno punti di quello che potrebbe avere Ma anche per lo svolgimento delle partite Però il calcio è strano e quindi succede anche questo Ma anche per lo svolgimento delle partite Ma anche per lo svolgimento delle partite